C'è sta un vecchietto seduto sulla panchina al parco che sta a piangere di rotta. Si avvicina a un vigile e gli fa... Ah non è? Perché sta a piangere? Perché mi ha menato papà. Dice come ti ha menato papà? Ma quanti anni hai? 90. Dice e perché ti avrebbe menato papà? Perché non ho scaldato la minestra a nonno.